Tanta rabbia e cordoglio nelle parole del sindaco di Ferno, Sara Foti, dopo lo supro della 21enne di venerdì notte nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. L'amministrazione, scrive sui social, ha già intrapreso diverse iniziative per prevenire ogni forma di violenza in civiltà, come la sigla sul protocollo di sicurezza proposto dalla prefettura di Varese sul controllo delle stazioni ferroviarie, turni straordinari della locale, il potenziamento del sistema di videosorveglianza, ma sottolinea la sindaca, serve un sostegno concreto anche da parte delle istituzioni regionali e nazionali, porterò nuovamente le nostre istanze di maggior sicurezza nelle sedi opportune a costo di andare sino a Roma.